buongiorno e benvenuti scenari economici oggi vi parliamo di ubisoft società del settore dei giochi e il cui controllo è nelle mani della famiglia guillemot che l'aveva anche fondata questa società fino a cinque sei anni fa era una leader del mercato aveva anche un valore molto elevato arrivata a valere 80 euro ad azione ma attualmente il suo valore si è ridotto a poco più di 11 euro per azione e questo naturalmente sta scontentando gli azionisti un azionista il hedge fund eg investments che ha sede in slovacchia ha scritto una lettera aperta al management chiedendo un cambio secco di direzione della società e che questa o diventi privata cioè esca dalla borsa oppure che venga ceduta a una grande piattaforma come per esempio microsoft perché evidentemente non c'è fiducia nel management della borsa una delle cause del crollo del valore delle azioni è legato allo scarso scarso appeal degli ultimi giochi tra cui star wars outlaws che sta facendo fatica ad avere successo sia perché è poco interessante con personaggi politicamente troppo corretti e poco affascinanti sia per problemi nella grafica anche x defiant che doveva essere l'alternativa a call of duty sta invece che avere successo sta perdendo utenti e questo naturalmente fa attendere delle vendite in calo la società sta vedendo un fatturato in riduzione adesso dovrebbe lanciare il nuovo gioco a sanzi creed shadows ma ci sono dei dubbi che anche questo possa avere il successo sperato questo sta portando una grande soddisfazione gli azionisti protestano se ne vanno e se non ci sarà un cambio secco nella direzione aziendale questo titolo non si riprenderà dalla sua crisi potrebbe addirittura peggiorare la sua situazione vedremo nei prossimi giorni cosa accadrà grazie 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 grazie